Grazie a tutti. E' sotto la sua figura d'onore, a cento metri da noi e noi adesso dobbiamo far sentire una volta di più la nostra voce per chi dica qua dove è benvenuto, che pergo e spinge lui e la sua politica è lo Staini. Adesso basta! E' venuta a sfruttare la grande occasione di propaganda del giuramento della Guardia di Finanza e pubblicizzando l'impegno del governo contro l'evasione fiscale vorrebbe farci dimenticare dei tagli alla spesa sociale, lo smantellamento dell'Uempar, l'attacco ai diritti del lavoro. Adesso basta la parola d'ordine di miseria che non lo vuole più pagare, basta questo governo delle banche e dei manchieri, basta la speculazione sulle grandi opere. Rivolgiamo tutto, lavoro, casa, resta, salute, istruzione, territorio, possiamo pagare la crisi e si la creata. La verità è che la fitta è una rapina e che bisogna dirlo, che vivere è un lusso e quando la casa è un lusso resistere agli sfratti, agli sgomberi e riappropriarsi delle case è un diritto sacrosanto che questo corteo reclama. Stamattina stavamo venendo alla manifestazione qui a Bergamo Centro, quando all'improvviso due della Dicos ci hanno fermato e ci hanno portato in questura di Bergamo, per quale motivo non si sa, solo perché avevano voglia di fermarci per non farci fare questa cosa. Ora in questura, ma senza motivazione, chiedendo documenti, ma non c'è motivazione di chiedere documenti se io sono fermo, essendo un libero cittadino faccio manifestazione come è tutti gli altri. Noi la crisi non la paghiamo! Noi la crisi non la paghiamo!